Un Natale sempre più all'insegna del passaggio tra tradizione e innovazione grazie alle nuove abitudini di consumo digitale. Infatti se da un lato i regali della tradizione si confermano i primi posti tra le preferenze dei consumatori come generi alimentari, giocattoli e capi di abbigliamento, la tendenza 4.0 fa sì che nella lista dei regali entrino anche prodotti come gli ebook, la musica digitale, gli abbonamenti e le piattaforme di streaming e le card digitali. E quanto emerge dall'indagine sugli acquisti per i regali del Natale 2018 realizzata da ConfCommercio, imprese per l'Italia in collaborazione con Format Research. La percentuale dei consumatori che si apprestano ad effettuare gli acquisti in occasione delle festività natalizie 2018 resta stabile rispetto al 2017. Saranno l'86,3%. A novembre, secondo i dati Istat, sia per i flussi commerciali da e verso i paesi ex Unione Europea, si riscontra un lieve aumento congiunturale per le esportazioni e un calo per le importazioni. L'incremento congiunturale delle esportazioni è stesa a quasi tutti i raggruppamenti principali di industrie, con l'eccezione dei beni di consumo non durevoli e dei beni intermedi. I beni strumentali e l'energia registrano un aumento marcato. Dal lato dell'import, la flessione è intensa per i beni di consumo durevoli e l'energia. Gli acquisti di beni strumentali sono invece in aumento. L'indagine condotta da Confindustria e alberghi evidenzia un trend sulle prenotazioni a cui, alle brusche frenate del Natale, segue un'impennata per Capodanno e nuovamente un'impefania con trend negativo dovuto, in questo caso specifico, ad un calendario 2019 sfavorevole. La montagna si conferma tra le destinazioni preferite per festeggiare il nuovo anno. Neve, scenari naturali, mozzafiato, mercatini e ottima cucina saranno da richiamo sia per la clientela nazionale che per quella straniera. Quasi 27.000 imprese finanziate e 31.000 posti di lavoro creati o salvaguardati e oltre 7,5 miliardi di euro in investimenti attivati. Questi numeri di Invitalia nel 2018, dalle start-up innovative alle multinazionali, l'agenzia ha dato sostegno a numerosi progetti imprenditoriali. Al Sud, il nuovo incentivo per le Under 36, partito il 15 gennaio 2018, in 10 mesi ha già portato alla nascita di 2.200 imprese, nel mezzogiorno con la creazione di più di 8.200 posti di lavoro. Le domande sono state valutate da Invitalia entro i 60 giorni previsti, assicurando tempi record di risposta, come sottolineato dall'agenzia. Piazza Fari chiude la seduta la settimana in calo al termine di una giornata che si era aperta con il segno meno. L'indice MIB segna un meno 0,97%, a quota 18.397 punti, mentre Italia All Share cede lo 0,84% a 20.194 punti. Le altre piazze finanziarie europee, segnano più, anche se davvero leggero. Parigi più 0,04%, Francoforte guadagna lo 0,21%, mentre Londra cede appena lo 0,03%. Del momento. Grazie a tutti.